Abbiamo tirato fuori nel corso del dibattito anche la FIFA, o comunque le istituzioni, e il fatto che spesso i limiti che sono posti alle istituzioni nazionali derivano da un livello più alto, che è quello di questo caso, la FIFA. Avendo qui lei, professore, io ho questo lei che mi... Sì, vabbè, sono un po'... Adesso stavo pensando, mentre parlava Piruza, che sto veramente diventando democristiano ormai, perché in effetti, se mi viene anche un po' da ridere, e vi faccio una premessa, riprendo sempre la Tavecchio, perché abbiamo fatto per anni conveni, uno in Sicilia in particolare, se lo ricordo ancora, a Caltanissetta, siamo nel 2013, con, non dico che volassero i tavoli, ma insomma, io ero contro anche il vincolo, se lo sai, chiaramente, è un altro tema dei 25 anni, è un altro tema dei miei preferiti, insomma. Ma quindi proprio vuol dire, quando non te le mandi a dire, ma anche di fronte magari a persone così, che possono sembrare, quindi proprio, stai zitto tu, non stai zitto tu, questa cosa. Più aggiungo anche che, a livello di federazione calcio, se penso al capo ufficio della gara attuale, se mi vede cambia marciapiere, e, in generale, l'anno scorso, i progetti che l'Università di Padova, quello che ho presentato io, che peraltro, posso essere autocelebrativo un secondo Stefano? Ah sì, sì. Ti ringrazio. C'è un bellissimo progetto, dai, Calcio ai diritti umani, che abbiamo vinto un Research Grant Program di UEFA, pensate che la federazione calcio, c'era bisogno di una lettera di sostegno di una federazione, a me di sé di no, ma di sé di no, hanno posizionato un altro progetto. Allora io, 15 giugno, nella scadenza del bando, ho bussato le porte alla federazione calcio Malta, dove una federazione europea serviva, che mi hanno detto, anzi, non hanno neanche letto, sei tu, beh, voi lo appogli, ecco la letta, tu presentalo, poi vediamo. Cioè, nel senso, il popolare di fiducia è in bianco. Insomma, per farla breve, noi abbiamo vinto, e il progetto italiano non ha vinto, il 12 giugno ero a Nion a presentare questo progetto bellissimo sui diritti umani e il calcio, quindi proprio molto attinente, la domanda che mi ha fatto il Presidente della Commissione è ma perché la federazione calcio italiana non ha appoggiato questo progetto? La prima domanda che ha fatto, io ho detto, ma, lì, ancora la mia anima di Mo Cristiano, ha detto, ma, alla fine volevamo fare un progetto pilota su una federazione piccola, col naso che mi cresceva. E che, in effetti, chiudendo poi il discorso che faceva Beppe prima, che dire, che è abbastanza, come dice lui, cioè è una persona complessivamente inadeguata, sotto un profilo formale, però devo dire la verità, è uno che si dà, è un gran lavoratore, è uno che si dà molto da fare. Ho usato il termine comunicativo, non a caso, perché l'errore comunicativo rischia poi di legittimare. perché, senza prenderci in giro mia, vi chiedo, è meglio una persona molto rozza che magari, come si diceva, non si è buono esprimerse, o l'alto papavero, senza fare nomi, grande dirigente, banchieri, con begli abiti, magari che vanno in giro e sembrano molto più politically correct, però poi, strucca strucca, come diciamo, combinano ben poco, perché io non so cosa scegliere, magari un summa di due sarebbe l'ideale. Ci sono anche dei profili terzi, ci sono anche dei profili terzi, però io volevo staccarmi da Tavecchia, e anzi, stavo andando verso la FIFA io, perché in realtà, sulla FIFA, sembra che la FIFA dia dei vincoli alle federazioni, effettivamente è così, rispetto ai regolamenti nazionali, poi tu pensi che la FIFA è quel barracone imperiale, una sorta di Dark Fener, che ti domina dall'alto, ha più scandali la FIFA del resto del pianeta messo assieme, si parla di... era Warner, mi sembra che... nelle ultime indagini che ci sono state, quando sono entrati in Svizzera, questo Warner, che era un altro dirigente FIFA, diceva io ho paura per la mia vita, a parlare di quello che succede qua dentro, e quindi la domanda era, effettivamente noi dobbiamo sottostare alle direttive che vengono in FIFA, o dentro la FIFA c'è una riflessione anche lì, nonostante tutte le contraddizioni rispetto al periodo nuovo che sta vivendo questa società, e ci sono dei margini di azione dentro alle legislazioni FIFA, dentro cui ci possiamo inserire noi per attuare delle pratiche di trasformazione, al di là di quello che dicono loro da... non si sa neanche bene dove poi, perché è un'entità un po' contraddittoria, anche la FIFA, come autorità. Allora, guarda, diciamo che, anche qui in effetti, nel 2016 è stato un anno in cui c'è stato un vero tsunami, insomma, no? Perché è caduto il sovrano assoluto, questo Blatter che aveva tenuto per 15 anni, 20 anni, insomma, in mano il giocattolo, travolgendo anche il suo Delfino, in qualche modo, che è stato presidente UEFA, moltissimi anni, Michel Platinino, accusato di aver preso dei soldi con un contratto orale, vi ricordo, cioè, tanti soldi, qui si è tattito ad un milione di franchi, per promuovere, cioè non 10.000 euro, per promuovere il calcio, ma mancava il contratto, adesso poi di uno si fa la sua impressione, insomma, diciamo, e questo forse, forse è la punta dell'iceberg, ragazzi, perché poi alla fine della fiera, quello che si vede, c'è anche un bellissimo libro indagine, adesso mi sfugge l'autore, un giornalista indipendente inglese, che ho sempre sul comodino del mio letto, mi arrivo sempre troppo tuffo per leggerlo, prima o poi, o Mertà, mi pare, si chiama qualcosa che mi dicono sia fatto molto bene. Allora, guarda, la FIFA in realtà dà delle direzze, fa, delle regole, diciamo, obbligatorie, poi, cioè, quelle che sono chiamate di hard law, quindi, di costrizione, altre invece soft, sulle quali le federazioni hanno un margine di discrezionalità, per esempio, facciamo un esempio di norma ferrea, quella che diceva Beppi Luzza prima, cioè, il trasferimento dei minori, per esempio, la FIFA dà sull'articolo 19 di questo regolamento, 3, dice, il trasferimento dei minori è vietato, dice, e poi, questi ragazzi che girano, come mai? Perché ci sono tre eccezioni, va bene, se non voglio farvi tutta la casistica, però, per esempio, una di queste sono i famosi trasfrontalieri, no? Cioè, se io sto a 20 miglia, ma voglio giocare a Nizza, non so, quindi, dentro i 100 chilometri, Como con Lugano, bravissimi, esatto, quindi, i trasfrontalieri è una, e l'altra è, quella, la madre di tutti gli scandali, un po', il trasferimento, per, in cui, il ragazzino si muove, ma in realtà, per motivi di lavoro della famiglia, che è un classico, utilizzato, peraltro, dai super, super club, parlo di proprio, il top dei top, quelli che vincono le Champions, Barcellona, in Company, che poi avevano preso stangate, mercati fermi, inibizioni, in quanto, capitava magari di, ragazzi, di 14, 15 anni, che andavano nelle cantere, o andavano in Inghilterra, ci sono anche altri casi, dicevano, noi, non abbiamo parlato, nulla per il trasferimento, e dice il papà, e il papà, sì, un esempio, realmente è accaduto, un caso che ho visto io, tra l'altro, dice, papà, persona molto normale, un'istruzione normale, forse, forse il diploma, ma forse neanche, se non lo ricordo bene, che peraltro, non mica vuol dire, mica, c'è niente di male in questo, salvo che magari, metterlo a capo di una multinazionale, con 400 mila euro di stipendio, ti fa pensare, che probabilmente, è un modo per aggirare la norma, cioè io pago, il papà, ma in realtà, o sto pagando il ragazzo, hai capito, quindi, quindi, ci sono tutti questi escamotagli, quindi casi veri, beh, in un caso italiano, anche quello, si può fare anche il nome, perché è nato sui giornali, Macheda, se lo ricordo, è tornato a giocare in Italia, tra l'altro adesso, è successo una cosa simile, andò via dalla Roma, o dalla Lazio, se non ricordo bene, quale delle due romane, via Manchester, se non sbaglio, e il caso fu simile, insomma, ecco, e quindi, su certe regole, la federazione calcio, non può dire, niente da fare, perché se è così, lo dice la FIFA, non mi adeguo, non posso non adeguarmi, perché c'è tutto un sistema, di sanzioni sportive, cioè se la federazione calcio, dice se non sai che c'è, io questi minori, li faccio giocare comunque, la FIFA potrebbe aprire, un procedimento disciplinare, contro la federazione calcio, e dirle, tu non partecipi ai mondiali di Russia, sto facendo un paradosso, e poi lo farà, per mille motivi più, ma tecnicamente è possibile, poi però ci sono delle regole, e qui invece sì, tipo quella di cui noi discutiamo adesso, cioè we want to play, in sintesi, quello che noi, che poi l'oggetto, sono un po' divagato, ma l'oggetto della strata è, vogliamo o no garantire, sto diritto al gioco per questi ragazzi, perché c'è la fine della fiera, questo è il tema, ci possiamo parlare quanto vogliamo, io sono un bla bla, sono qua che faccio bla bla, però poi dopo di fatto, abbiamo decisioni di giudici, le abbiamo viste insieme, non Stefano, mica ce le siamo inventate, se penso è il tribunale di Lodi, consigliata a tutti quanti, ma non è mica l'unica, perché poi dopo alla fine della fiera, succede questo, che non facciamo giocare questi ragazzi, o comunque quelli più coraggiosi, o che ha qualche soldo, o che dice, io però voglio qualcuno, che mi dica se è giusto o meno, dopo, se anche hai la decisione, qui sono bravissimi poi, i vertici nazionali, tutto scompare, cioè nessuno sa nulla, per trovare la decisione favorevole, devi scandagliare, quasi fosse neanche un mercato clandestino, delle sentenze, cioè quando ci sono decisioni, che affermano diritti fondamentali, che a noi sembrano banali, perché dici, come caspita è possibile, che questo è qua, e non lo fai scendere in campo la domenica, cioè dici, ma dove c'è scritto, dice regola me, eh ma non si può, nessuno magari va ai tribunali, poi scoppi che magari ci sono dei precedenti, ecco lì, è il momento di, tra virgolette fare, non dico la voce grossa, ma farsi valere, ma se andiamo anche indietro, negli anni, ma ce ne sono di casi, palla nuoto, palla canestro, te ne potete trovare, te ne trovo più di qualcuno se vuoi, che ha fermato, perché non si cambia, ti faccio un'altra regola discriminatoria, cambio sport, posso un secondo, e spero di non annoiarvi, perché questo è poco abbia passione, questo qua poi, quando mi fate, Presidente, quando fai, fammi così, che quando, che se no, che ti attacco al microfono, è l'FAVB, la federazione volley internazionale, ha una norma orribile, che è di questo tipo, forse una delle norme più orribili, anche in confronto al calcio, quasi, sembra quasi uno sport per le ducande, che è questa, allora, occhio, succede questo, per avere un trasferimento internazionale, va bene, devo chiedere, la licenza, devo chiedere, nulla ostra, da parte della federazione internazionale, esempio tipico dei cubani, giocatori cubani di volley, c'è tanti che vengono in Italia, vogliono venire, se Cuba dice no, Massimo, tu conosci perfettamente, che sei il re della pallavolo, scusa, tu potresti raccontare questi casi, Tribunale di Verona, Tribunale di Roma, ce ne sono tantissimi, Poev, gli altri due cubani, uno ha giocato anche a Padova, esatto, se Cuba dice, non sai che c'è, guarda, no, non ti mando, perché c'hai la luce valgo, tu invece hai i capelli biondi, no, tu non vai, dico una sciocchezza per fare il paradosso, la federazione dice, ah, guarda, no, non ti ho dato il transfer, stai due anni fermo, due anni fermo, due anni fermo, salvo che, questa è ancora più incredibile, non ci sia il cosiddetto trasferimento under FIVB umbrella, dicono che già il nome umbrella ti dà senso di corporation, sai quelle cose un po', sotto l'ombrello della federazione, dice, in questo caso c'è una violazione, ti autorizzo io, sì, ma parla che decidono loro, e spesso decidono, non c'è violazione, e il ragazzo sta a fare, ma bisogna pagare, grazie, qualcuno mi ricorda che bisogna pagare, ma soprattutto ci sono dei casi in cui, vi faccio un esempio clamoroso, Laghero, te la ricordi? Perfetto, Laghero, adesso stiamo facendo un discorso per iniziati, ma in realtà era una campionessa di pallavolo, giocò con la nazionale italiana, gli fu proibito di tornare a Cuba per vedere il genitore in fin di vita, la mamma, grazie, e lei fu all'inizio bloccata su questa norma, fin tanto in quanto non andarono a sbattere i pugni a Losane, c'è una cosa ancora più sottile, che si chiama Contamination Rule, si dice nel diritto sportivo internazionale, che è quella norma orrenda, per cui se io sono contaminato, tu, e vieni a giocare con me, sei contaminato con me, cioè ci contaminiamo, cioè tu non devi venire con me, perché io sono un contaminato, mi spiego, io mi metto in lotta contro la federazione, perché voglio il trasferimento, e loro applicano la Contamination Rule, nessuno gioca più contro di te, ma attenzione, non è che nessuno gioca più contro di te, perché io ho fatto una porcheria, tipo Sudafrica, Partheid, bla 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 bla, ma perché io cerco di far giocare un ragazzo che è venuto, scusami, mi taccio per sempre.